buongiorno ragazzi bentornati sul canale oggi volevo ragguagliarvi farvi un video un pochino sui consumi reali nel mio caso del mio fantastico riscaldatore cinese dato che un pochino è un argomento che a molti vedo che interessa allora ve li divido in due sia inerente al discorso della corrente che inerente al discorso del consumo reale di gasolio ora ho montato il riscaldatore già ormai da diversi mesi quindi l'ho testato in tantissime condizioni compreso un freddo abbastanza importante quando sono stato a monaco di un meno 4 o meno 5 che insomma comincia già a essere freddino d'accordo allora io posso dirvi questo molto dipende da che cosa molto dipende dalla coibentazione del vostro mezzo più il mezzo ha una coibentazione ottima meglio è chiaramente meno il riscaldatore deve lavorare per portare il camper a temperatura e mantenerlo meno la coibentazione è presente più il riscaldatore lavorerà allora parliamo dei consumi di corrente allora inerente alla corrente il riscaldatore vi consuma circa circa vuol dire più o meno 10 ampere vogliono dire 10 ampere 10 ampere mezzo indicativamente per più o meno 10 15 minuti all'atto dell'accensione d'accordo dopodiché si attenua e va tra gli 0 5 gli 0 7 ampere ora per la ventilazione perché fisicamente dopo è solo accesa la ventilazione attenzione però se voi durante la sera alla notte alzate il riscaldatore attenzione perché lì si avrà un ulteriore aumento del consumo perché chiaramente lui ricomincerà a spingere forte e assorbirvi un pochino di più io posso dirvi questo non ho mai avuto problemi io monto al momento due batterie da 100 ampere come utilizzo dei servizi personalmente non ho mai avuto problema anche dopo due tre giorni di libera grossi problemi non ne ho c'è una volta avviato il riscaldatore il consumo è talmente limitato che se proprio ve la vedete male vedete le batterie un po giù accendete il mezzo anche quello retta tra rigolette che vi dà l'autonomia necessaria per passare tranquillamente la notte c'è non non c'è il problema vi dovrebbero saltare entrambe le batterie d'accordo per cui ci sarebbe un problema del dire urca rimango al freddo ma la vedo una situazione abbastanza remota in una maniera in un'altra voi comunque caldo in camper l'avete senza grosse problematiche chi monta un buon impianto fotovoltaico quello che ti sei consumato durante la notte te lo ricarichi durante il giorno quindi comunque sia a livello di corrente secondo me problemi io non ne ho riscontrati rispetto anche dopo due tre giorni di libera comunque il giorno dopo ti accendi il camper o quant'altro o i pannelli fotovoltaici io me li sono sempre ricaricati non ho mai avuto queste problematiche quindi sono sempre rimasto tranquillamente al caldo parliamo di consumi invece inerente al gasolio e questo è una cosa un pochino difficile perché perché come predetto molto dipende dalla coibentazione del vostro camper vi spiego diciamo che parliamo di camper di fascia già un po più elevata sempre dei nostri anni parliamo di laica mobilvetta imer cioè chi avevano coibentazioni già di base comunque superiori è chiaro che mantenere al caldo una camper del genere è molto meno passatemi il termine oneroso che farlo con un camper con una coibentazione molto più blanda barra scadente come ad esempio può essere il mio elna clipper d'accordo io ad esempio ho notato questo che anzi vi porto a vederlo scusate guardate questo è il nostro fantastico riscaldatore cinese scusate allora noi abbiamo dieci tacche d'accordo finché io rimango alla quarta e la quinta non sono mai andato oltre non c'è mai stato bisogno d'accordo quindi 4 e 5 ora che vi ho fatto vedere questa cosa scusate che vi riappoggio e mi risiedo io ho notato questo di notte quando la temperatura è veramente bassa e attenzione quindi parliamo comunque di temperature sotto lo zero meno 2 meno 3 meno 4 e via discorrendo a 4 tacche io ho in camper circa tra i 17 e i 18 gradi a 5 tacche sfiori venti ora io avendo due bambini chiaramente di notte lo sparo a 5 perché comunque 20 gradi loro dormono bene anzi anche troppo e io sto bene se fossi da solo vi dico la verità a 4 tacche a 18 gradi starei da dio di notte perché comunque sotto le coperte si sta bene ho notato un notevole aumento del consumo tra la quarta e la quinta tacche vi spiego io durante il giorno lo metto a 2-3 perché comunque lo lascio sempre acceso per lasciare una buona temperatura in camper e ho comunque 15-16 gradi sempre sempre con temperature esterne come detto prima abbastanza rigide tra virgolette quindi facendo questo cosa vuol dire che se io lascio tutta notte cioè diciamo almeno 8-9 ore il riscaldatore a 4 tacche quindi vuol dire all'interno del camper un 18 gradi consuma niente niente vuol dire che non arrivo a un litro a notte ok perfetto se già io lo metto sul 5 cioè quindi a 5 tacche per avere un 20 gradi con la mia coibentazione ricordate il discorso di prima già siamo intorno ai 2 litri a notte ok questo vuol dire che la mia famosa tannica da 6 litri mi dà più o meno un'autonomia tra le 2-2 notti e mezzo anche perché tenete conto che oltre alla notte io durante il giorno comunque lo tengo acceso beh insomma diciamo che se dovessi tirare una conclusione sicuramente con l'arco del tempo potrei prevedere di portare la tannica dai 5 litri attuali a 10 e a 10 è ora che l'ho provato per diversi mesi è secondo me l'autonomia giusta cioè 10 litri stai comodo vogliono dire almeno 4 notti in libera senza preoccuparti di ricaricare la tannica va bene ora sono con 2 notti 2 notti e poi ci devo pensare poi devo comunque devo pensare di ricaricarlo non è sbagliato perché non mi crea problema però un po' di autonomia in più non mi dispiace se parliamo di consumi vogliono dire che andiamo tra gli 1 e i 2 litri a notte ok se vogliamo esagerare facciamo un conto tondo secondo me siamo sui 2 litri e mezzo al giorno perché comunque di giorno magari un pochino lo tieni basso lo accendi secondo me ecco 2 litri e mezzo al giorno può essere un buon indicativo per voi per darvi un'idea del consumo e secondo me è ottimo ripeto non parliamo di viverci in camper parliamo di farci i fine settimana o le vacanze quindi è chiaro che una vacanza del fine settimana dove porto il camper sulla neve con la famiglia mi sono caricato i miei 5 litri di diesel io arrivo a misura a misura a misura d'accordo a pennello a pennello potrebbe essere che quella tannichina un pochino più grande non mi dispiace però tutto sommato è un costo molto civile cioè fate conto che io anche con il camper precedente comodamente in un fine settimana mi bruciavo una bombola intera da 25 euro io qui con i miei 5 euro di gasolio scusatemi 5 litri di gasolio che equivalgono a 8 euro 9 esageriamo 9 perfetto io sto comodo ma ragazzi che caldo ok cioè tenete sempre conto che io qui in cabina non divido in questo caso perché lo spazio della cabina a me serve sarebbe meglio farlo come sempre parlato però in questo caso il riscaldatore spara un'area calda che mi coibenta veramente per bene però chiaramente consuma di più se io limitassi questa zona è chiaro che il riscaldatore mi consuma di meno ma mi piace darvi un dato reale cioè del mio utilizzo ed ecco che in questo caso praticamente io avrei il riscaldatore che invece di consumarmi 2 litri e mezzo al giorno me ne farebbe 1,8 perché comunque la cabina a tenere calda ragazzi è impegnativa io ripeto non chiudo la cabina quindi comunque caldo in cabina quasi quanto in cellula c'è una differenza di qualche grado non l'ho calcolato ma si sente fisicamente però per avere il camper tra i 18 e i 20 gradi sempre un 2 litri e mezzo di gasolio al giorno io sono molto soddisfatto il riscaldatore mi piace veramente tanto non sono minimamente minimamente come dire non ho avuto rimorsi nel togliere la truma anzi all'oggi posso dirvi perché non l'ho fatto prima d'accordo? secondo me è stata veramente un'ottima soluzione a me questo riscaldatore così com'è per il tipo di caldo che fa piace veramente tanto un pochino me lo sono aggiustato vi faccio anche vedere ad esempio ho fatto questa ho portato una griglia ora non la vedrete mai ho portato questa griglia che mi piace un pochino di più invece della sua solita ci prendi meno contro coi piedi e guarda questa non c'entra assolutamente niente scusate non ci prendi contro coi piedi e diffonde il caldo veramente bene quindi ripeto a me piace come sistema è molto malleabile e personalmente ne sono veramente molto soddisfatto questo era per aggiornarvi un attimino sui consumi di gasolio spero anche in questo caso di esservi stato di aiuto un pochino per avere un'idea di misura di cosa possa realmente consumare un riscaldatore in inverno pieno ragazzi cosa dire io spero come al solito di esservi stato di aiuto se è piaciuto il video iscrivetevi al canale e del resto alla prossima ciao 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 ciao